Bene, buongiorno a tutti, vi chiedo gentilmente di accomodarvi e fare un pochino di silenzio. Grazie di essere qua. Io sono Giacomo Giannarelli, uno dei cinque portavoce qua in Consiglio regionale. Oggi parleremo dell'aeroporto di Firenze e la conferenza è intitolata non a caso costi poco chiari e danno ai conti pubblici. Qua con noi abbiamo degli onorevoli portavoce Diego De Lorenzis, che si occupa di questa tematica alla Camera, il nostro Alfonso Bonafede, Commissione di Giustizia parlamentare della Toscana e qua con noi, lo ringraziamo molto tutti, il nostro vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. Poco a poco prenderemo anche la regione. Siamo qua con noi, siede la consigliera comunale Silvia Noferi, nostra portavoce in Comune di Firenze, il professor Baldeschi e il dottor Ciulli dei comitati della Piana. Il nostro Luigi Di Maio si dovrà sentare solo per dieci minuti per un intervento in diretta con Sky e poi tornerà con noi appena possibile. Io direi di aprire questa conferenza facendo una piccola riflessione. Mentre Rossi rimanda tutta Roma per accontentare il suo segretario di partito, Matteo Renzi. Noi abbiamo chiamato i nostri parlamentari che lavorano a Roma tutti i giorni e li abbiamo fatti venire qua, in Toscana, qua a Firenze, per difendere il territorio toscano da queste opere insostenibili. Da quando siamo entrati qua a Regione, da fine giugno, abbiamo acceso un faro sul tema dell'aeroporto. Siamo stati tra i primi a chiedere che il neopresidente Enrico Rossi venisse a riferire sul tema dell'aeroporto. Abbiamo presentato cinque atti molto importanti. Questi atti tutti chiedevano un rispetto della legalità, un rispetto delle norme che lo stesso PD aveva votato nella precedente legislatura. Ci riferiamo in particolare al piano di indirizzo territoriale paesagistico, votato dal PD nella scorsa legislatura, che prevedeva cinque punti chiari. Il primo, la pista doveva essere di mille metri. Il secondo, la pista non doveva prevedere il rullaggio. La pista doveva essere monodirezionale. In particolare doveva essere fatta la VIS che sta per valutazione di impatto sanitario rispetto al progetto esecutivo, che non lo è un progetto esecutivo, ma è un masterplan cosiddetto, è un qualcosa che si avvicina lontanamente a un progetto esecutivo. In questa valutazione degli impatti sanitari, che non è stata fatta, si doveva tenere conto degli aspetti cumulativi di inceneritore, che proprio qualche giorno fa è stato autorizzato, e dell'adeguamento dell'autostrada a 1 a 11. Doveva essere fatto prima di andare nella procedura di valutazione di impatto ambientale. L'ultimo elemento che noi abbiamo fatto rilevare da subito in tutte le stanze e in aula in particolare, qua in Regione, era che lo stesso PIT, voluto dal PD, prevedeva un dibattito pubblico, questa procedura partecipativa dal basso, affinché tutti i cittadini potessero esprimersi e avere chiarezza sul progetto e dire alla loro, esprimere opportunità o criticità. Ad oggi questo dibattito pubblico, che doveva essere fatto prima della via, non è stato fatto. In ultimo una cosa scandalosa. Il nucleo valutativo della Regione Toscana, il cosiddetto Nuvre, ormai abbiamo imparato che cosa sta questo acronimo, e ringrazio l'architetto Zita di essere qua con noi, Fabio Zita, dopo la chiusura chiederei un piccolo intervento, lo ringrazio di cuore per tutto il servizio che ha svolto alla Regione Toscana. I tecnici della Regione, terzi, indipendenti, a servizio dei cittadini e a servizio delle norme stesse che la Regione ha, si sono espressi con un parere negativo sul progetto. Oggi qua siamo a chiederci se la politica vuole inseguire la scienza nelle scelte che fa o vuole seguire gli interessi delle lobby. Noi siamo affinché la politica agisca nel rispetto dei cittadini e facendo proprio le osservazioni dei tecnici e della scienza. Oggi abbiamo appreso dalla stampa che il Presidente Rossi ha espresso un parere positivo al progetto, vincolandolo a un pseudo osservatorio, sono questi mezzi di distrazione di massa, questo osservatorio chiedendo rispetto delle opere compensative che già erano previste, nulla di nuovo. E si sta facendo l'ennesimo gioco delle tre carte, tra il Presidente Rossi che vuole fare le scarpe al Presidente Renzi, per convenienza si fanno la guerra, quando gli serve mantengono le distanze. È un atteggiamento da Commissione Sanità. Noi vorremmo che venisse affrontato ci sono dei profili di dubbia, noi stiamo valutando i profili psicomorali dubbi degli atteggiamenti del PD ma anche degli atti che stanno facendo. Direi di passare subito, lo stiamo verificando, quindi è tutto in divenire insomma. Io passerei subito la parola a Alfonso Buonafede, il nostro parlamentare portavoce della Toscana, che lo ringrazio di cuore di essere qua con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Farò soltanto una premessa come portavoce eletto in Toscana. Innanzitutto vi dico che per me è un motivo di grande orgoglio il fatto che ogni volta che facciamo una conferenza stampa per affrontare problematiche della Toscana o di Firenze non sono mai da solo, ma c'è sempre insieme a me qualche altro mio collega parlamentare portavoce che non è stato eletto in Toscana, ma che entrando in Parlamento sa ed è consapevole di essere portavoce di tutti i cittadini italiani e quando entra in Parlamento non fa gli interessi del suo territorio, ma si impegna per ogni cittadino, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, come se quel territorio fosse casa sua. E questo è rivoluzionario in Italia. L'anno scorso abbiamo fatto una conferenza stampa sull'alta velocità e c'era il deputato De Rosa della Commissione Ambiente. Una settimana fa è stato qui in Toscana Carlo Sibilia per l'iniziativa SOS Equitalia. Un mese fa è stato in Toscana dalla Commissione Finanze, Daniele Pesco, proprio per la problematica del Monte dei Paschi di Siena. Questo è il modo di fare la politica del Movimento 5 Stelle, entrare nelle istituzioni e agire nell'interesse di tutti i cittadini, che è l'unico interesse che a noi interessa, scusate il gioco di parole. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica che sulle problematiche importanti come quella che affrontiamo stamattina sa ascoltare i cittadini, sa ascoltare i comitati, sa ascoltare i tecnici, sa ascoltare e ascolta l'università, perché la maggior parte delle problematiche che emergono sull'aeroporto di Firenze sono problematiche che non ha estratto dal cilindro del Movimento 5 Stelle, sono problematiche che pone l'Università di Firenze. E allora questo è quello che deve saper fare una forza politica, soprattutto una forza politica che vuole governare, sapere ascoltare gli addetti ai lavori, le intelligenze italiane e poi far diventare quelle conoscenze e quel tipo di progetti politici nell'interesse dei cittadini. Oggi abbiamo qui consiglieri regionali, parlamentari nazionali, consiglieri comunali, a dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è una forza politica che poi, nelle varie articolazioni territoriali, porta avanti le battaglie sempre con l'obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini. Quando facciamo queste conferenze stampa e quando facciamo le denunce che vengono fuori da queste conferenze stampa, ci troviamo spesso o a denunciare purtroppo dei fatti che sono ormai accaduti, ma a volte, come in questo caso, parliamo di qualcosa che non è ancora iniziato. Allora, per capire se le denunce, che sono credibili o meno, basta andare a vedere le denunce che abbiamo fatto negli scorsi anni. Erano fondate o meno? Ne prendo una su tutte. L'alta velocità. Noi denunciavamo che l'alta velocità sarebbe stato uno spreco di soldi e sarebbe andata contro i diritti dei cittadini. Oggi il tunnel dell'alta velocità dovrebbe essere completamente concluso e invece è allo stato di avanzamento 0%. Quindi la fiducia e la credibilità noi ce la siamo meritata ogni volta in cui abbiamo fatto una denuncia che si è dimostrata fondata nel tempo. E quello che presentiamo oggi è l'ennesima denuncia di un'opera inutile con il solito protocollo in cui ci sono scienziati, ci sono ricercatori, ci sono tutti gli addetti a lavori che dicono che non serve a nulla e che va contro i diritti dei cittadini e abbiamo invece una classe politica che pensa di poter completamente calpestare i diritti dei cittadini e pensa di poter avere una scienza infusa, che poi è quella dei soldi e basta, per fare delle opere che non interessano a nessuno e che non servono a nessuno. Io passo la parola adesso a Diego De Lorenzis e ringrazio anche lui per essere intervenuto stamattina. Grazie. Buongiorno a tutti. Come hanno detto i miei colleghi, io sono Diego De Lorenzis, sono pugliese, ma sono qui perché da due anni mi occupo, mio malgrado, non vorrei farlo, ma è necessario e quindi lo faccio volentieri, dell'aeroporto di Firenze. Sono in Commissione Trasporti e quello che ho notato in questi anni è che evidentemente c'è un interesse che va al di là dell'interesse dei cittadini comuni. Abbiamo provato, come dire, a partire da un'ipotesi plausibile che quest'aeroporto servisse, che quest'aeroporto avesse una qualche logica. È stato propagandato come semplicemente un diverso orientamento della pista esistente. Ebbene, non è così. Si parla di un nuovo aeroporto, di un nuovo sedima aeroportuale che in qualche modo implica anche la dislocazione di un nuovo terminal passeggeri, dei parcheggi, delle aree di sosta degli aerei. Quindi in realtà è una nuova struttura aeroportuale. Scoperto questo, che non era mai stato detto esplicitamente. In realtà abbiamo approfondito con chi era possibile approfondire questi argomenti e quindi con degli organi tecnici, perché faccio notare che sul territorio ci sono degli organismi, degli enti terzi, indipendenti, che a vario titolo si sono occupati della vicenda, denunciando tutte le irregolarità. Abbiamo parlato con i comitati dei cittadini, con i comitati territoriali che su questo tema per fortuna non sono stati mai silenti. Hanno approfondito anche loro con degli altri tecnici tutti i profili che potevano emergere dallo studio delle carte. Abbiamo in qualche modo dimostrato con la coerenza e la credibilità che ormai ci contraddistingue su tutti i livelli territoriali. Quindi facendo rete tra i soggetti interessati sul territorio e anche tra i vari livelli istituzionali che questo aeroporto, così come viene propagandato dalla politica di professione, in realtà non è utile. Anzi, è anche dannoso. Dannoso sotto il profilo sanitario, dannoso sotto il profilo della salute pubblica e dell'ambiente e dannoso anche dal punto di vista erariale. Perché quando in Parlamento arriva un decreto, lo sblocca Italia e finanzia 50 milioni e si sente su tutte le agenzie di stampa che ci sono altri 100 milioni da versare per questo aeroporto e che questo aeroporto, per come è configurato, per le ragioni per cui si vuole costruire, e qui ci sono persone sicuramente più competenti di me che possono entrare meglio nel dettaglio. Si capisce che in realtà questi fondi possono aprire una procedura di infrazione europea, almeno se le altre forze sono state silenti sotto il profilo di rischio ambientale e sanitario, beh, almeno dovrebbero fare una presa di coscienza che questo potrebbe comportare anche un danno erariale. Noi abbiamo provato in tutti i modi a uscire da questo muro di gomma, perché è chiaro che tutto quello che è intorno al Presidente del Consiglio è un po' velato, un po' vattato e sono appunto scelte che in qualche modo lo riguardano direttamente. e oggi ci troviamo qui proprio per denunciare questo progetto. Lo abbiamo fatto in diverse sedi, come hanno ricordato anche gli altri miei colleghi, e abbiamo provato a interessare anche le altre istituzioni che sono sovraordinate a controllare questo tipo di progetti. Abbiamo avvisato l'UNESCO, abbiamo avvisato la Commissione europea, perché il nostro dovere di cittadini non è quello di guardare un interesse particolare, ma fare appunto, come è stato ricordato, l'interesse degli italiani. E noi riputiamo che questo progetto evidentemente non rientra nel progetto degli italiani. Di più, abbiamo proposto in Commissione, durante le audizioni, anche delle proposte alternative. Abbiamo saputo da ENAC che nel profilo di crescita dei flussi di turisti per la Toscana, questo aeroporto si rendeva necessario perché l'aeroporto di Pisa ha dei vincoli militari sull'utilizzo dal punto di vista temporale. Bene, forse andava provato, in qualche modo andava trovata una soluzione con ENAC, con il Ministero della Difesa, per vedere se quei vincoli sono in qualche modo comprimibili, tanto per dirne una. Come è stato ricordato, Firenze si pone a una distanza tale per cui l'aeroporto di Bologna e l'aeroporto di Pisa sono già previsti in un quadro europeo come aeroporti a servizio di questo bacino d'utenza. Quindi veramente non si capisce quali siano le necessità di avere un nuovo progetto aeroportuale. Si poteva valutare il rafforzamento di quello esistente. Quindi in realtà le soluzioni tecniche ci sono. Nessuno è contro il benessere dei cittadini quando anche c'è la necessità di prevedere un ampliamento o delle soluzioni tecniche che consentano ai turisti di tutto il mondo di vedere le bellezze che abbiamo in Italia. Però questo non può essere fatto a prescindere e a tutti i costi. E quindi ci saremmo aspettati che la politica quantomeno vagliasse con il supporto dei tecnici le altre soluzioni alternative che pur esistono. Grazie. Luigi Di Maio Allora, io oggi ho fatto una riflessione su questo aeroporto. Le questioni tecniche le conoscono molto meglio le persone qui presenti a questo tavolo che le hanno approfondite. sono del luogo. Alcuni, come Diego, ci studiano da un po' in commissione e le affrontano con atti. Tant'è vero che oggi noi vi presentiamo degli atti di fide, vi presentiamo una serie di comunicazioni che riguardano gli organi competenti. Ma qui c'è una questione che dobbiamo chiarire. Vale per Firenze, vale per la Toscana, vale per l'Italia. Si spendono soldi per fare opere o si fanno opere per spendere soldi? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Secondo me si fanno opere per spendere soldi. Dire a Matteo Renzi e ai suoi che sono degli incompetenti o degli scellerati significa fornirgli il miglior alibi di cui hanno bisogno per continuare a fare quello che stanno facendo. Non è corretto dire che quest'opera è da incompetenti o da scellerati. Quest'opera si pone al centro di un preciso disegno politico. Come si fa a capire qual è il disegno politico? Voi fiorentini lo sapete più di chiunque altro. Voi avete un buco di bilancio al Comune di Firenze e un bilancio mai approvato dalla Corte dei Conti quando c'era il Governo cittadino di Renzi. Perché? Perché i fondi delle vostre tasse venivano utilizzati per ricambiare il favore ad alcuni che avevano finanziato la campagna elettorale a Matteo Renzi. Per capire i 150 milioni di questo aeroporto, perché stanno andando a quest'aeroporto, basta vedere quali sono le società che ci sono nell'aeroporto. Due più di tutte sono la Corporation America, scusate la pronuncia, e l'AIA Airlines, che hanno finanziato la fondazione Open di Matteo Renzi con 25 mila euro a testa. Hanno finanziato con 25 mila euro a testa nell'estate del 2014 e poco dopo è arrivato l'ok per l'aeroporto di Firenze che incassa 150 milioni. Ovvero, metti 50 mila euro e te ne tornano 150 milioni. Ma non è il solo caso. Se voi andate a vedere gli altri finanziatori di questa fondazione Open, quello che è pubblico, perché una cosa che potremmo chiedere al Partito Democratico, che si riempie la bocca con la trasparenza, è di farci sapere chi finanzia le campagne elettorali del loro Presidente del Consiglio. Ovviamente evito di dire chi sono quelli che finanziano il Movimento 5 Stelle perché alzereste in tanti la mano qui. La British American Tobacco ha finanziato la fondazione Open per 100 mila euro il primo luglio 2014. Il 31 luglio 2014 il Consiglio dei Ministri ferma l'aumento del 30% delle accise sul tabacco, cosa che aveva dichiarato invece qualche tempo prima. Quindi qualche tempo prima minaccia, poi arriva il finanziamento, il Governo si ferma. Lo stesso Governo, nel ottobre del 2014, ha emanato dei decreti legislativi sulla giustizia, soprattutto sull'evasione, dichiarando non più punibili una serie di reati legati all'evasione. In quali processi il reato non è più un reato, il fatto non costituisce più un reato? In due processi che ci vengono subito, ci balzano agli occhi. Uno, quello dei dirigenti dell'ILVA di Taranto, che sembrerebbe, secondo l'accusa, avessero occultato 50 milioni di euro. Il fatto non costituisce più un reato grazie ad una legge del Governo Renzi. E l'AD di Sisal, Petrone, non voglio sbagliare il nome, sì, che era uno di quelli che aveva fatto false dichiarazioni, il fatto non costituisce più reato. Chi sono l'ILVA e la Sisal? La Sisal finanzia la fondazione Vedro in cui c'è il Ministro dell'Interno Angelino Alfano. L'ILVA ha dato 98 mila euro al PD nel 2013 per la campagna elettorale. Allora, se noi cominciamo a capire perché si fanno le opere inutili in Italia, riusciamo anche a capire perché questa città e voi fiorentini siete stati utilizzati come bancomat per tanti anni. Siete stati utilizzati per rimpolpare coloro che in campagna elettorale mostravano adesione economica a Matteo Renzi. Oggi noi ci dobbiamo fare, secondo me, tre domande. Una, che è più una considerazione. Io consiglio al milione di cittadini italiani che sono in aree a rischio frane e che non vedono risolto il loro problema da anni, di fare una donazione alla fondazione Open. Magari, non lo so, il Governo gli risolve il problema del dissesto idrogeologico, visto che interrogazioni, proposte di legge e manifestazioni non servono. Magari, passando per questa fondazione, riescono ad ottenere, per esempio, coloro i disabili che hanno un problema enorme. Ieri la giornata legata alla disabilità è stato un simposio di retorica, ma non si è fatto nulla in questi anni per affrontare il problema. Chissà che donando alla fondazione Open non si mette a mano al problema. Basta poco, perché questi ricevono 150 milioni a fronte di un investimento di 25 mila euro. La seconda cosa è che cosa possiamo fare con 150 milioni di euro in questo momento storico in questo Paese? Io ieri ho chiamato il sindacato CONSAP della Polizia di Stato, che ha il 40% delle autovetture in officina inutilizzabili, e mi hanno detto se voi ci date 150 milioni di euro, noi ci compriamo 3.500 nuove auto e abbiamo anche il collaudo della manutenzione per sei anni. In un momento in cui si sta dicendo di investire in sicurezza, il Governo Renzi mette 50 milioni di euro per i mezzi della Polizia di Stato e 150 milioni di euro per fare una marchetta elettorale a Carrai e alle società che lui protegge in aeroporto di Firenze. Facendoci questa domanda e dandoci questa risposta, tutto comincia ad avere un senso in questo Paese e capiamo anche come si utilizzano le risorse pubbliche. Per concludere, perché noi abbiamo la certezza di non cascare in questo meccanismo perverso? Perché tutti si staranno domandando, ma voi volete eliminare il finanziamento pubblico e il finanziamento privato produce questo. Prima di tutto ricordiamoci che queste cose avvengono con il finanziamento pubblico ancora in vigore, perché fino al 2018 i partiti prendono i soldi pubblici, ma non gli bastano evidentemente, prendono anche da queste lobby. Ma noi le campagne elettorali le finanziamo grazie a voi. Solo Imola, Italia 5 Stelle, l'abbiamo finanziata con 500 mila euro di donazioni in media di 30 euro di migliaia di cittadini italiani, a cui non dobbiamo niente se non la correttezza nel cercare di realizzare il programma elettorale per cui ci hanno mandato in Parlamento, in Consiglio regionale e nei consigli comunali. Se noi riusciamo a proteggere questo metodo, il Movimento 5 Stelle quando andrà al Governo avrà la libertà di dire che Firenze ha bisogno di più sicurezza, Firenze ha bisogno di più servizi comunali, Firenze ha bisogno di maggiore trasparenza, visto che in questo Comune non si riesce ad accedere agli scontrini del Presidente del Consiglio quando faceva il Sindaco di Firenze, ma è la stessa ragione per cui invece ha chiesto le dimissioni di Marino. Allora, quello che io dico è che qui non stiamo semplicemente denunciando un aeroporto, stiamo denunciando un meccanismo perverso che ha affossato le casse pubbliche di questo Paese, si chiama conflitto di interesse. Non hanno mai voluto fare la legge perché se ne nutrono del conflitto di interesse e non hanno mai voluto fare una legge per il finanziamento serio, per il finanziamento privato alle forze politiche, perché bisognerebbe rendere trasparenti le fondazioni, bisognerebbe mettere un tetto ai finanziatori, non puoi dare 98 mila euro solo tu dell'ILVA ad un partito, puoi avere un massimale, massimo 5 mila euro, così che tutti i donatori valgano allo stesso modo e tu sei spronato a considerarli tutti uguali, non che l'elettore del PD che dona 100 euro perché ci crede e messo nell'angolo perché ci sono i fratelli Riva dell'ILVA che danno 98 mila euro, battono casse e si fanno fare le leggi. L'ILVA è uno dei casi più spudorati perché lì dentro addirittura è stata approvata una legge in cui si dice che anche se si riscontrassero casi di ambienti di lavoro insalubri, la magistratura non può sequestrare. Chi ha un'impresa qui, anche se mette una saponetta fuori posto nel bagno e arriva la guardia di finanza o l'ASL gli mette, gli fa una multa o addirittura gli chiede di calare la sala cinesca. Questa è l'ingiustizia sociale che si sta producendo perché si stanno accogliendo logiche perverse di governo con i vostri soldi, con i nostri soldi. Noi siamo qui oggi per raccontarvi un'Italia diversa che si fa con trasparenza, con libertà d'azione, con le mani libere perché una campagna elettorale si può finanziare con le donazioni di chi ci crede e non mandando carrai a chiedere i soldi in giro per l'Italia e per il mondo per finanziare le Leopolde e soprattutto per dirvi che siamo uniti. Qui ci sono tutti i livelli del Movimento 5 Stelle presenti e andremo avanti su questa battaglia perché sappiamo che non è solo la battaglia del centro storico di Firenze, non è solo la battaglia dell'aeroporto di Firenze, non è solo una battaglia di casse pubbliche, ma è una battaglia di etica politica in tutta Italia. Se noi non invertiamo questo meccanismo che chi finanzia riprende i soldi in favori con i soldi pubblici, noi l'Italia non la salveremo mai e vogliamo salvarla perché abbiamo un altro metodo d'azione, un altro modo di considerare l'impegno politico. Grazie. Grazie Luigi Di Maio. Io passerei la parola alla nostra portavoce nel Comune di Firenze, una insieme a Riana Xecalos che è qua con noi, Xecalos, e a tutti gli attivisti presenti. Dagli attivisti in giù siamo tutti uniti qua. Silvia. Sembra facile intervenire dopo Luigi Di Maio, ma insomma ce la metterò tutta. Allora, tornando a una visione più focalizzata sulla città di Firenze, perché è stato ampiamente e anche in modo esaustivo spiegato quali sono i meccanismi in grande scala della politica del partito di maggioranza, a me preme ritornare alla dimensione del Comune di Firenze, perché da qua noi abbiamo potuto trovare i meccanismi locali che sono proprio insiti nei documenti, nei primi documenti, a partire dal regolamento urbanistico. Ricordo a tutti, ormai i fiorentini lo sanno, ma magari qualcuno su scala nazionale non lo sa, che nell'area dove verrà costruito o almeno è stato progettato il nuovo aeroporto c'è una concentrazione di grandi opere tale da fare impallidire qualunque persone di buon senso. Nella stessa area hanno intenzione di costruire un inceneritore, di allargare la terza corsia dell'autostrada, di costruire uno stadio con annessa cittadella dello sport che avrà una superficie commerciale pari al doppio di quella dei Gigli, che è già un'enormità. Tutto questo mettendo come opera di compensazione un parco, un parco agricolo, che già al nome, loro sono molto bravi a usare questi richiami linguistici, aulici, no, agricolo, ma dico io, chi potrebbe mangiare una mela cresciuta in un campo a 200 metri da un inceneritore e con gli aerei che mi scaricano idrocarburi ogni 5 minuti, perché di questo si tratta. Atterrerà un Boeing 777 ogni 5-6 minuti, Gianfranco? 10 minuti? Diciamo 6 minuti, cambia poco per la mela. Comunque, quello che è evidente, a parte la mancanza di trasparenza del Comune di Firenze, che ci tengo a ribadire in questa sede, visto che ci sono tanti giornalisti, che non è assolutamente vera, tanti dei nostri atti che io e la mia collega Arianna presentiamo non trovano risposta, non trovano risposta, non vengono considerati, le interrogazioni anche dal 2014 sono lì a candire e infatti ora proveremo anche a fare un altro esposto, ormai in procura ci conoscono e ci salutano amichevolmente tutti, siamo sempre lì. Ma a parte la mancanza di trasparenza, ci siamo rese conto che nel regolamento urbanistico c'era qualcosa che non andava. Questo grandissimo regolamento urbanistico di cui si vantano in tutte le sedi ha delle importanti cricità, ma soprattutto due. La prima è che tutte queste opere non vengono fatte secondo una pianificazione urbanistica vera e propria, ma come poi probabilmente affronterà meglio il professor Baldeschi per rispondere alle esigenze di qualche investitore privato. E la costruzione dell'aeroporto ne è la prova più evidente, forse ancora più di quella dell'inceneritore, perché la costruzione dell'aeroporto non ha previsto l'assorbimento dei piani di rischio. Cosa sono i piani di rischio ENAC? ENAC è l'ente nazionale dell'aviazione civile che detta le regole per la costruzione e per la sicurezza degli aeroporti. Ha individuato nel 2011, anzi ha implementato nel 2011, queste zone di rischio e di tutela che devono essere intorno alle piste degli aeroporti. Queste zone di tutela prevedono anche delle zone di tutela laterali, secondo ENAC, ma non secondo il Comune di Firenze, che non le ha recepite nel nuovo regolamento urbanistico. E questa è una cosa gravissima, perché in queste zone di tutela sono interdette le concentrazioni di opere a alta densità abitativa, ad alta densità commerciale e non è prevista la costruzione di scuole, di ospedali e via di seguito. Quindi tutto questo viene tasciuto a livello di regolamento urbanistico, non si fa finta di nulla. E noi, io e Arianna, abbiamo fatto un'interrogazione dicendo che vi siete accorti che nel regolamento urbanistico non ci sono le zone di rischio intorno all'aeroporto? Silenzio assoluto. Ci hanno risposto con un parere tecnico fatto da tre direzioni del Comune di Firenze, che tra l'altro evidenzano tantissime criticità a detta, contrariamente a quanto dicono i politici, ma evidentemente se ne infischiano dei pareri dei tecnici. Queste tre direzioni tecniche, nessuna di queste tre direzioni dice una parola sui piani di rischio che non esistono. Si può tranquillamente costruire, si può tranquillamente costruire uno stadio, in ospedale e procedere eventualmente alla costruzione, alla lottizzazione del Pue di Castello, cosa che è assolutamente inammissibile per quanto riguarda una logica seria di un Comune che è attento alla salute dei propri cittadini. In effetti le criticità sono sia per il nuovo aeroporto, perché nella costruzione del nuovo aeroporto i piani di rischio impatterebbero non soltanto sul Pue di Castello, ma anche sulla già esistente scuola dei marescialli. Quindi non si può prevedere una cosa per una costruzione e non per l'altra. Ma la cosa ancora più grave è che tra l'altro è stata denunciata anche da Enac, perché noi ci siamo accorti che sta cominciando lo scaricabarile, perché Enac ha dichiarato in una lettera al Ministero di qualche giorno fa che aveva in più occasioni sollecitato il Comune di Firenze a assimilare queste zone di rischio. Perché non è stato fatto? A noi ci è venuto un grosso dubbio. Perché il Comune di Firenze non ha evidenziato che lì non si può costruire? Perché c'è un Pue, perché c'è già un'autorizzazione alla costruzione. Allora, con questi grossi dubbi suffragati sia dai dati tecnici dell'Università, che di contro dice la stessa cosa in pratica, anche se per interessi ovviamente opposti rispetto a Enac, abbiamo presentato un esposo alla Procura della Repubblica lunedì scorso, denunciando queste criticità e chiedendo ai magistrati che facciano luce su questa mancata assimilazione delle zone di rischio. Ora mi dispiace di rimanere troppo sul tecnico, ma sono elementi importantissimi per capire perché il Movimento 5 Stelle è contrario a quest'opera. Non ultimo, e ci tengo a dirlo, è l'azione che è stata fatta su iniziativa del gruppo consigliare fiorentino di denuncia a UNESCO del probabile sorvolo della città di Firenze. Perché non esiste traccia che il Comune abbia informato UNESCO come dovrebbe fare per tutte le opere infrastrutturali, visto che siamo patrimonio dell'umanità dal 1982 e per esserlo dobbiamo attenerci a delle disposizioni ben precise. Ecco, tutto questo vorrei anche evidenziare una cosa molto importante e che a noi preme molto, cioè il fatto che ci vogliano vendere sempre questo aeroporto come un'occasione di sviluppo. Questa occasione di sviluppo di duemila posti di lavoro, come anche un po' allo stadio ce la vendono in questo modo, no? Eh sì, ma voi dite sempre no, siete contrari allo sviluppo, questo porterà ricchezza per la città. E posti di lavoro. Allora, noi ci domandiamo, ma come mai, se devono portare posti di lavoro e licenziano quelli che già ci sono, cioè è cosa nota, anche se non viene riportata dalla maggior parte dei giornali, che parte dei lavoratori che gestivano il carico e scarico dei bagagli sono stati licenziati ed è in previsione di fare un bando, una gara di appalto di livello europeo. Quindi la ricchezza, a chi la porta? Cioè dovrà venire un facchino dalla Svezia per portare una valigia dall'aereo al viaggiatore? Cioè questo qui non si capisce, cioè c'è una contraddizione continua. Quindi io chiedo ancora una volta un po' di coerenza, soprattutto al nostro sindaco, il sindaco che si presenta in Piazza della Repubblica, accanto a Vitoriggio, a presentare un progetto che ancora non ha avuto l'approvazione del Ministero. Questa è una cosa inammissibile in una città e in una società democratica, dove ci sono delle regole da rispettare. Anche se ormai è chiaro che questo aeroporto lo vogliono non perché porta sviluppo, come ha detto Luigi Di Maio, lo vogliono perché devono soddisfare gli interessi dei loro amici, ma la cosa è chiara, è il fatto che quando è venuto qui il Ministro Poletti è andato a visitare e a conoscere il progetto dell'aeroporto direttamente alla società ADF di Carrai. Non è venuto qui in regione dai tecnici del nucleo di valutazione regionale a capire quali fossero le criticità. E tutto questo manifesta la volontà di volerlo fare a tutti i costi di quest'aeroporto non gli importa né della tutela dell'ambiente né della salute dei cittadini. Scusate se mi sono dilungato. Grazie Silvia. Noi siamo portavoci, portavoci di quali stanze? Anche quelle del mondo, dell'università e di quelle dei comitati. Quindi ringrazio di cuore il professor Paolo Baldeschi di essere qua con noi e Gianfranco Ciulli dei comitati della Piana. Passerei subito la parola a Paolo Baldeschi. Grazie. Si sente? Grazie mille. Non sono un rappresentante dell'università perché sono già in pensione da tre anni, sicché parlo a titolo personale e casomai come coordinatore della rete dei comitati toscani. Comunque il mio intervento sarà meramente di natura tecnica. Allora, qua non si tratta, come è stato detto eufemisticamente, di riqualificare l'aeroporto di Firenze. Ma non si tratta neanche di fare un nuovo aeroporto. Si tratta del completo rifascimento del territorio della Piana Fiorentina, di cui la maggiore criticità è data dal sistema idraulico. Quindi totale rifascimento del sistema idrografico idraulico e in particolare del fosso reale. Vediamo quali sono le principali opere che devono essere fatte e quali sono le criticità che comportano ciascuna opera. Ne dirò solo alcune, poche, perché altrimenti dovrei impiegare qualche ora per spiegare tutto quanto. Ma voglio semplicemente che si fissi l'attenzione su alcuni fatti. Prima di tutto la pista, la direzione della pista. La direzione della pista orizzontale, parallela all'autostrada, provoca una serie di problematiche. Ne dico solo una. La direzionalità dei voli. Vito Riggio e i vari amministratori delegati delle varie società ci hanno detto e assicurato che la pista dovrà essere esclusivamente monodirezionale in direzione Prato. Però se uno va a guardare le tabelle che sono allegate al progetto presentato a Via scopre che il 20% degli atterraggi avverrà in direzione Firenze e il 16% dei decolli avverrà in direzione Firenze. Quindi su un tema così cruciale ci vuole chiarezza evidentemente. Inoltre questa pista di 2.400 metri ha questa particolare virtù nel senso che avrà più voli, altrimenti inutile farla, avrà aerei più grandi, però inquina meno e produce meno rumore. Poi vi dirò qual è il colpo di bacchetta magica perché ciò succeda. Passiamo alla seconda grande criticità, il sistema idrografico e idraulico. Deve essere rifatto a tutto il sistema delle acque alte, delle acque basse, ivi comprese, tutta la viabilità di servizio. La opera più importante è il fosso reale, il canale di guardia che corre lungo il fosso reale. Il fosso reale viene rifatto con un prolegamento di 2-3 chilometri, fa una curva a gomito sulla testa dell'aeroporto e poi sottopassa o dovrebbe sottopassare l'autostrada. Voi sapete che le curve di gomito nei tubi non funzionano bene perché provocano tutta una serie di problemi, ma comunque il nuovo fosso reale dovrà intanto essere scavato. Ci sono 3 milioni e mezzo di metri cubi di terra inquinata, nessuno nel master plan non viene detto, master plan che dovrebbe essere un progetto definitivo e non lo è, non viene detto, non esiste un piano di smaltimento delle terre di scavo, una bazzecola, ma voi sapete che il sottoattraversamento di Firenze è fermo proprio per questa ragione, per colpa del qui presente Fabio Zita che non ha declassificato i rifiuti da trattare in terra e rocce da scavo. Il fosso reale deve sottoattraversare l'autostrada, il che può essere fatto ma solamente sopralevando l'autostrada di un metro e 70 centimetri. Solo così si possono mettere dei cassoni 5 metri per 5 metri perché le sue dimensioni sono indispensabili per la manutenzione, perché bisogna pensare anche alla manutenzione evidentemente. E qua passiamo a un terzo problema che è quello della mobilità. Partiamo dall'autostrada, deve essere sopraelevato non solo di 70 centimetri ma di un metro e 60, sempre se si vuole osservare i regolamenti. Certo, se poi uno se ne frega può anche... La società autostrada ha detto che manco ci pensa a farlo e a pagarlo. Notate che è un problema estremamente critico e rilevante, ma è ancora più rilevante se pensate che devono essere fatte anche le due terze corsie. Quindi ci saranno pesanti interferenze dei cartieri delle terze corsie e del sollevamento dell'autostrada con i cantieri dell'aeroporto. Tutto questo viene annunciato ma non è stato assolutamente approfondito. Poi, sempre sul tema della mobilità, c'è il fatto che il collegamento Sesto-Smanor viene spazzato via e viene fatto un nuovo collegamento che corre in freggio del fosso reale, assolutamente impraticabile da un punto di vista trasportistico. Poi c'è il problema dell'inquinamento acustico-aereo. L'acustico è stato affrontato calcolandolo solo sui residenti, ma queste sono zone estremamente dove gli addetti superano di gran lungo i residenti. Là ci si lavora, c'è l'Ikea, c'è i gigli, ci sono maree di attività di ogni tipo, commerciali, industriali, artigianali. Allora sapete come è stato affrontato il problema. L'abbiamo fatto solo per i residenti, perché tanti lavoratori sono già professionalmente esposti, quindi cavoli loro se aumenta l'inquinamento acustico. Quanto all'inquinamento atmosferico, invece di prendere dieci anni, si è preso un anno solo, l'anno più favorevole, per cui non c'è inquinamento atmosferico. Per forza hai preso l'anno in cui c'era una grande piovosità, devi prendere dieci anni. Ora ne hanno preso un altro, ma ancora non hanno preso i dieci anni, come stabilisce la legge. E poi tutta un'altra serie di interferenze che sono state dette da chi mi ha preceduto, dalla Silvia, per cui non sto a ripetere, ma sono interferenze pesantissime con il Polo Universitario, con la Scuola dei Marescialli, con il costruendo Polo di Castello, non costruendo, non si sa. Allora, però, qual è il punto di tutto ciò? L'aspetto interessante su cui vorrei che posta l'attenzione è che numerosi annunci sui giornali, e qua secondo me i giornalisti forse non hanno fatto completamente il loro lavoro, che dovrebbe essere di far vedere che il re nudo non debbano essere gli amplificatori di quello che viene dai salotti del potere. Allora tutto questo deve essere fatto in due anni. Tutte queste opere che vi ho raccontato, con tutte le interferenze e criticità, devono essere fatte in due anni, i vi compreso gli espropri, perché andranno fatte anche gli espropri. In due anni, prima perché si doveva fare il G7 a Firenze, ora non si fa più il G7, è comunque rimasto. E se voi vedete questo, il cronoprogramma, vedete che tutti i lavori iniziano il primo gennaio, iniziano il primo gennaio 2016 e finiscono nel 2017. Miracoli! In 15 anni non si è fatto niente sulla TAV, niente sulla Tirrenica, sono 15 o 20 anni, in due anni si fa tutto ciò. È credibile? Signori, o sono degli sproveduti, oppure sono in malafede. E se sono in malafede, per quale ragione sono in malafede? Per quale ragione questo annuncio che viene riportato appunto dai vari giornali senza un piccolo punto interrogativo? E la ragione è molto evidente, perché vogliamo creare delle condizioni di emergenza e di fretta, sempre condizioni di eccezionalità. In Italia non si fa un'opera se non all'interno di una cornice di eccezionalità, per violare le leggi e le regole. E quindi un master plan è stato presentato alla valutazione di impatto ambientale, ma la legge, la legge 152 del 2006, meglio conosciuta come Codice dell'Ambiente, e successive modificazioni, dice chiaramente che alla valutazione di impatto ambientale si presenta il progetto esecutivo, e il progetto esecutivo viene detto anche come deve essere fatto, non è fatto così a piacere. Non può essere presentato come l'ha presentato ENAC e all'allora aeroporto di Firenze, ora Toscana Aeroporti, controllore e controllato insieme, già questo è stupefacente, anzi non è stupefacente, è una prassi consolidata questa, è stato presentato come il progetto preliminare, l'inetta definitiva, e quindi questo progetto è preliminare perché è incompleto, carente, eccetera, eccetera, ma è definitivo quando si tratta di negare il dibattito pubblico che non può essere fatto sul progetto definitivo. Due anni per completare tutto questo, una prima riflessione. Prima di tutto questo progetto, se realizzato, va veramente in direzione opposta rispetto a tutto quanto si dovrebbe fare e si sta facendo nell'Europa del Nord, Olanda, Germania, Svezia, cioè là si va verso la rinaturizzazione dei sistemi ambientali. Il cambiamento climatico è già in atto e quindi bisogna rinaturizzare. Invece noi che cosa facciamo? Andiamo in direzione opposta. Il progetto dell'aeroporto di Firenze si è realizzato, comporta una incredibile artificializzazione del sistema e quindi una sua intrinseca fragilità e quindi è una scelta già sbagliata come direzione di politica generale, ma tutto questo avviene in Italia perché appunto bisogna spendere, spendere, spendere. L'altra considerazione è la seguente. Voi volete, io mi metto dal punto di vista di Aeroporti Toscana, Corporation American e del signor Eurnetian, voglio fare questo progetto, lo debbo fare bene. Ma scusate, voi volete costruire una casa e partite così su un progetto appena abbozzato, non sapete cosa ci sta sotto, no, lo fate bene. Quindi un progetto deve avere una rigorosa programmazione degli interventi. Si deve sapere cosa parte prima, quali sono le interferenze, quali sono le criticità, le priorità, eccetera, e le risorse finanziarie assegnate a ciascuna operazione. Qua è stato accennato a 150 milioni di soldi pubblici che devono essere spesi. Io dico che saranno almeno tre o quattro volte tanto e faccio una scommessa con chiunque qua voglia accettare la scommessa, ma poi questi soldi non ci sono, non ci sono, sono stati semplicemente annunciati. Allora si parte su un progetto malfatto che comporta una serie di criticità, non cosa, è semplicemente. Allora a questo punto qual è il ruolo della regione toscana? Il ruolo del governatore Rossi assomiglia moltissimo a quello di Ponzio Pilato. Da una parte c'è Riggio che ha detto, signori, ha detto Vito Riggio, Signori, discutete, fate le vostre osservazioni, tanto decidiamo noi. E il governatore Rossi cosa ha fatto? Ha preso tutto quanto, lo rimanda al Ministero, decidete voi. Allegato c'è il parere negativo della regione toscana, comunque con questo sistema. Ma allora qual è lo scopo di tutto questo? Attenzione, lo scopo di tutto ciò è di ripetere l'esperienza del Mugello, cioè di trasformare tutte le osservazioni che sono state fatte in, sentite bene, prescrizioni realizzative, come ha detto il Comune di Firenze, a tutta una serie di criticità che debbano essere superate attraverso prescrizioni realizzative. E queste prescrizioni realizzative vengono rimandate al progetto esecutivo. Perché qua noi non siamo di fronte a un progetto esecutivo, siamo un master plan, non c'è stato presentato neanche il progetto definitivo, figuriamoci il progetto esecutivo, ma rimandare al progetto esecutivo è stato già fatto per la TAV del Mugello. All'epoca la regione toscana, l'assessore Conti e il ministro Altero Matteoli si sono messi d'accordo. I tecnici della regione dicevano attenzione, guardate che gli studi non sono approfonditi, il pericolo dell'interferenza degli acquiferi è altissimo, è stato rimandato tutto al progetto esecutivo. Il progetto esecutivo ha significato 300 fiumi torrenti seccati, 42 sorgenti, un disastro ambientale spaventoso. La regione addirittura ha fatto causa a Ferrovia Italiana, dopo che era stata lei, a dare il via libera a questo tipo di operazione, si sta rifacendo e si vuole rifare la stessa operazione per l'aeroporto di Firenze, ma bisogna essere pazzi o veramente essere degli avventuristi a fare una cosa di questo genere. Al progetto esecutivo nessuno controlla più niente, perché il progetto viene segmentato in tante cose, allora Rossi cosa propone? L'osservatorio. Ma l'osservatorio c'era anche per la Tavna e il Mugello, l'osservatorio in genere c'è il proponente, ci sarà Enac, Toscana Aeroporti, eccetera, eccetera, gli osservatori sono semplicemente fumo negli occhi, fumo negli occhi. Finisco con due considerazioni conclusive. Una è la totale mancanza di trasparenza di tutte queste operazioni. Non c'è dibattito, il dibattito è stato negato, non c'è informazioni. Da quando Toscana Aeroporti è inondato di pubblicità a pagamento le pagine sui giornali, è difficilissimo che qualche voce di flebile, di senso, trova accoglienza all'interno delle pagine dei nostri grandi quotidiani. Totale mancanza di trasparenza. C'è un impegno preciso che è stato preso dalla Regione Toscana, ma è stato disatteso. E l'altro grande problema è la sistematica, programmata, violazione delle leggi. Signori, noi, questi signori, stanno violando le leggi in tutte le maniere possibili. E le violano per prassi consolidata. È come se dice, la politica ci sono tanti corrotti, ma è per prassi consolidata e quindi non è più un reato. L'evasione, l'evasione, ma è una prassi consolidata. Quindi portiamo a 3.000 euro il contante, perché così favoriamo questa prassi. Scusatemi questa... Allora, la democrazia è fatta di rispetto delle leggi e delle regole, perché le leggi e le regole servono a proteggere i cittadini e gli interessi deboli contro i potenti e gli interessi forti, perché chi ha il potere può tranquillamente infieschiarsi le leggi e le regole, anzi è lui che le rompe. Leggi e le regole servono per tutelare i cittadini. Allora questo dovrebbe essere l'istituzione a garantire ciò. Non dovrebbe essere la Procura della Repubblica, non dovrebbe essere il TAR come fatto normale. Ormai i cittadini possono solo affidare al TAR, alla Procura della Repubblica, oppure, devo dire, anche a qualche partita, e ringrazio il Movimento 5 Stelle, che evidentemente non appartiene al coro generale di... Ebbè, volevo dire alla fine qualcosa di forte, ma non lo dico, e con ciò chiudo il mio intervento. Grazie mille. Grazie, grazie professor Baldeschi, della rete dei comitati per la salvaguardia del territorio. Passerei la parola a Gianfranco Ciulli, comitati per la salvaguardia della Piana. Buongiorno a tutti. Prima di tutto anch'io mi associo a quello che ha detto il professore Pocanzi. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, perché è una delle pochissime forze politiche che ci dà la possibilità di esternare, diciamo, il nostro lavoro. Riprendendo quello, diciamo, che ha detto il professore, io vado in maniera molto sintetica alle leggi, perché a queste noi bisogna fare riferimento. E allora, nelle leggi, io dico che il 97,5% di coefficiente di utilizzo Pista, dal nostro punto di vista, non è confortato da dati tecnici. Noi, il 3 di ottobre, abbiamo richiesto a ENAC e ENAV di darci tutta la documentazione tecnico-scientifica, quindi algoritmi, database per la valutazione dei venti, eccetera, eccetera, non ci rispondano. Gli abbiamo detto che le nostre valutazioni dicono che il coefficiente di utilizzo Pista, della nuova Pista, è al 75%. Come si dice, chi taccia consente, quindi quello che oggi dice il proponente, 97,5% di utilizzo Pista, non è certificato dalla legge, non è certificato e quindi non si può approvare in sede di Commissione Tecnica di Via. Come non si può fare lo stadio? Perché è inutile che Nardella tiri a destra o a sinistra la coperta, che è sempre corta, le regole ICAO e quindi le zone di tutela dicono che dall'aeroporto c'è una fascia di rispetto di 400 metri per 3.000 metri, per mezzo della quale lì non ci può stare lo stadio. Se lui leva lo stadio e ci mette il parcheggio, leva il parcheggio e ci mette gli hotel, non ci può stare. Quindi se loro vogliono andare contro l'egis, facciano pure. Poi dopo qualcuno sicuramente, si spera che la magistratura ci metta un po' di occhi. E aggiungo a questo e a quello che è stato detto precedentemente, che non c'è solamente lo stadio, non c'è solamente la scuola dei maresciali, ma ci sono anche i depositi Estelunga, i depositi Mercafir allo Smannoro, l'autostrada. Quindi la valutazione di impatto doveva e deve essere complessiva, cosa che il proponente anche nelle ultime integrazioni ha ovviamente evitato. Noi a questo punto abbiamo preso, con le nostre poche risorse finanziarie, abbiamo detto ci vogliamo vedere chiaro e abbiamo fatto uno studio di monitoraggio, fatto, guardate bene, da quella stessa studio tecnico che ha messo tanti grattacapi in capo all'ARPAT di Taranto, caso ILVA. Quindi abbiamo un soggetto tecnico riconosciuto. E che cosa ha detto? Queste osservazioni sono già state postate ieri al Ministero dell'Ambiente. Ha detto che lì ci sono sfuramenti fuori da ogni norma e da ogni regola, ovviamente con picchi, che naturalmente dovrebbero essere considerati. Ha detto che in via dello Smannoro, circunnavigando la nuova pista, ci saranno 30.000 transiti il giorno che subiranno l'impatto isofonico e, diciamo così, delle emissioni del nuovo aeroporto a 15 metri da terra. Perché gli aerei in quel punto lì passano a 15 metri da terra, con misurazioni fatte che vanno fino a 100 decibel. La legge dice che si può arrivare fino a 60-65. Quindi questi studi tecnici, che sono già in mano del Ministero da ieri mattina, devono essere valutati. Io me lo aspetto. Anche perché una commissione tecnica di via, che mi cassa il masterplan dell'aeroporto di Treviso, che ha un decimo delle criticità riconosciute oggi a Firenze, voglio vedere tecnicamente come farebbe a giustificare nel merito una valutazione scientifica di questo tipo. Ultime due cose. Cerco di essere sintetico. Allora, soldi. Masterplan dice 365 milioni di euro. Asterisco. Non ne sono esclusi. Sono esclusi l'IVA, gli espropi e i costi di mitigazione. Si va già a 500 milioni di euro. Ierl'altro, Nardella, manda un messaggio in codice all'Unipol per i famosi 100 milioni. Ma se io fossi un piccolo azionista di Unipol, vorrei i 100 milioni del terreno e i mancati guadagni dall'edificazione. Quindi saranno per o meno altri 100, 200 o 300 milioni di euro. e siamo a 800 milioni di euro. Perché qui il giochino, come è stato detto prima, più si spende e più si guadagna. Più si spende e più si guadagna. Ultima cosa che volevo dire, prima di dare un'informazione ufficiale, è patrimonio UNESCO. Non è patrimonio UNESCO. È EVU, esclusivo, valore universale. Quindi è un'unica infrastruttura culturale e paesaggistica che è unica nel mondo. E quindi quando mi si dice che lo 0,9% dichiarato dal proporente potrebbe passare sulla città, io devo considerare l'errore umano, l'errore meccanico, eccetera, che potrebbe comunque esserci in un'unica possibilità su un milione. Bene, io voglio capire chi si prende l'onere e il rischio di mettere a repentaglio questo unico ed esclusivo valore universale. Lo dice l'UNESCO nella sua lettera. Perché lo dice? Perché anche noi da diverso tempo abbiamo già fatto l'esposto all'UNESCO prettamente solo sulla questione aeroportuale. E l'ultima cosa è che io comunico che da ieri, dopo varie discussioni, abboccamenti, chiarificazioni con i vari deschi europei, ieri è partita ufficialmente la richiesta di procedura di infrazione alla Comunità Economica Europea per aiuti, impropri aiuti di Stato, sull'aeroporto di Firenze. Perché in base alle leggi economiche dei trattati finanziari dell'Unione e di tutti i vari articolati del Regolamento 1315 e di quello che è stato asserito anche nella famosa conferenza in Piazza della Repubblica, dal nostro punto di vista ci sono i presupposti per iniziare la procedura di infrazione per aiuti di Stato. Noi l'abbiamo notificato, specialmente in un punto che fino ad oggi non è stato mai valutato da nessuno. Lo Stato che fa concorrenza a se stesso. Perché quando lo Stato, diciamo così, svende il terreno dell'università che è di proprietà dello Stato e lo dà in gestione all'Enac che lo riconsegna a un gestore privato, dal mio punto di vista è lo Stato che fa concorrenza a se stesso. Grazie. Bene, bene. Prima dell'intervento conclusivo del nostro Luigi Di Maio ci tenevamo a chiamare qua con noi Fabio Zita. Fabio Zita. Fabio, per favore, intanto vorremmo sapere chi sei. Un cittadino come voi perché sono in pensione da 48 ore. Sono stato dirigente della Regione Toscana, per 18 anni sono stato dirigente alla Via, membro della Commissione nazionale nominato da tre Presidenti della Giunta regionale, successivamente trasferito dal Presidente Rossi al paesaggio e ho condotto a termine il piano paesaggistico regionale, secondo piano paesaggistico d'Italia, immediatamente dopo la Puglia. per ora sono gli unici piani paesaggistici definitivamente approvati. Grazie di questa possibilità esprimo evidentemente una mia opinione personale, ne ho facoltà, proprio perché non sono più nei ruoli della Regione e quindi posso, diciamo, tra virgolette, finalmente dire anche qualcosa riguardo a oltre 25 anni di lavoro, anzi, 35 anni di lavoro nella pubblica amministrazione, oltre 20 riguardo alle questioni ambientali. Correva l'anno 1995 e qui mi leggo a quello che ha detto il Professor Baldeschi, con il quale condivido moltissime cose, tra cui le opinioni, su tutta questa faccenda. Dico ai politici di oggi, ai giovani politici di oggi, correva l'anno 1995, era aprile, quando in una conferenza di servizi del Ministero delle Infrastrutture è stato approvato il sottoattraversamento appenninico. I tecnici, esattamente 20 anni fa, lavoravano come stanno lavorando oggi, nella stragrande maggioranza, lancio e spezzo una lancia in favore dei molti tecnici onesti e qualificati che lavorano nella pubblica amministrazione e che hanno qualche difficoltà, e lo dico con tutta chiarezza, ad esprimere le proprie complessive opinioni, dovuto al fatto, evidentemente, che ci sono questioni assolutamente rilevanti e che vanno oltre le loro competenze. I tecnici allora dissero chiaramente ed è tutto agli atti che fare quelle gallerie avrebbe sicuramente comportato dei problemi di carattere idrogeologico per quanto riguarda gli acquiferi superficiali e profondi dell'ammasso appenninico che era molto fratturato e che quindi con quel progetto che era stato presentato da società RFI sicuramente ci sarebbero stati dei problemi. La politica decise che c'era fretta di approvare quel progetto. Queste dichiarazioni vorrei ricordare non solo ai politici ma anche ai giornalisti sono pubbliche e stanno in un procedimento penale 535-04 udienza del 3 aprile 2008 sul disastro ambientale conseguente a quelle valutazioni del 1995 su cui la politica si espresse dicendo abbiamo fretta approviamo le cose che dicono i tecnici si affronteranno nelle successive fasi. Io vi rubo soltanto qualche ulteriore secondo per leggervi di questo che è un atto pubblico due passaggi fondamentali dice un amministratore pubblico di allora scusate lo trovo è importante per arrivare alle conclusioni della cosa io però da cittadino mi sento di fare un applauso a Fabio Zita perché è un uomo delle istituzioni e ha garantito il rispetto della legge in questi anni a servizio della Repubblica grazie Fabio ha detto nel luglio del 1995 un amministratore pubblico in conferenza di servizi a me è sembrato questo è nel verbale del 2008 a me è sembrato che il comportamento della Regione fosse più teso a sbloccare ed iniziare i lavori più che a verificare e a chiedere che cosa la realizzazione di questa opera avrebbe comportato in riferimento all'impatto ambientale e sociale che questa opera avrebbe portato nel territorio rispetto alla qualità del progetto che lì andavamo ad approvare questo è una affermazione agli atti in quella stessa occasione in quel confronto davanti al giudice l'allora direttore generale delle valutazioni di impatto ambientale 1995 ebbe a dichiarare le procedure all'epoca erano assolutamente inadeguate all'approvazione di un'opera quale la tratta dell'alta velocità Firenze e Bologna e l'operato del Ministero dell'Ambiente era un tentativo di tutelare l'interesse ambientale nel 1995 il Ministero dell'Ambiente ebbe a fare un tentativo sulla più grande opera infrastrutturale che allora si intendeva realizzare in Italia perché ho detto questo e perché ho portato alla vostra conoscenza un documento ufficiale spero che qualcuno interessato possa andare a leggere tutto il resto che c'è dentro vi ricordo che sono stati condannati per disastro ambientale tutti quelli che allora avevano realizzato l'opera e la Regione devo dire una cosa si è costituita parte civile aveva in conferenza dei servizi approvato quel progetto sono passati esattamente venti anni e non è cambiato niente questo oggi lo posso dichiarare il metodo il sistema con cui si fanno le valutazioni è identico i progetti specialmente per le grandi opere sono superficiali perché è giusto è necessario secondo qualcuno che siano superficiali perché se non fossero superficiali emergerebbe con tutta chiarezza quali contraddizioni all'interno dell'opera ci sono e cosa ancora più complicata per chi li presenta emergerebbe con tutta chiarezza quali soluzioni potrebbero essere trovate perché noi come tecnici non abbiamo mai detto ad esempio sull'aeroporto come sull'alta velocità che il progetto non andava fatto non compete a noi il primato della politica è giusto e deve essere rispettato ai tecnici compete in scienza e coscienza andare a spiegare ai politici quali sono i rischi che si corrono e le eventuali soluzioni che possono essere trovate la politica nel suo primato ha il diritto dovere di decidere in fondo nel bene o nel male assumendosi le responsabilità avendo però dai tecnici avuto tutti i documenti necessari per arrivare ad un giudizio compiuto in vent'anni queste sono le condizioni si sono ripresentate pochi mesi fa ma così è per la stragrande maggioranza delle opere delle grandi opere gli stessi dubbi gli stessi problemi e la stessa superficialità lo stesso la stessa questione che il professor Baldeschi ha segnalato che qualcuno ha inteso dire che per prassi consolidata quello che la legge obbliga a progetto definitivo possa essere presentato attraverso un master plan la dice lunga su qual è il sistema voglio solo ricordare una cosa e l'ho scritto nel verbale e l'ho dichiarato nel verbale che gli aeroporti sono sottoposti a procedura di impatto ambientale attraverso la presentazione di un progetto definitivo ed uno studio di impatto ambientale in virtù di una modifica di legge perché prima la legge prevedeva che fossero presentati progetti di massima lo Stato sulla base evidentemente di una questione in piedi con la comunità europea che ha ritenuto che noi come Paese membro non avessimo ricepito le direttive comunitarie sulla via in modo adeguato lo Stato con una successiva legge ha deciso di modificare quella impostazione dicendo da ora in poi non si sottopongono gli aeroporti a procedura di via attraverso un progetto preliminare ma ci vuole un progetto definitivo eppure avendo lo Stato scritto questo essendo legge mi sembra del tutto ovvio che tutti la dobbiamo applicare il piccolo come il grande qualcuno ha inteso invece inapplicare su dieci progetti nazionali tanto è il numero tutti gli aeroporti ultimamente presentati per prassi consolidata se questo è il sistema io credo che sia giunto il momento di affrontarlo veramente e integralmente come è dovere grazie 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 Fabio Zitta Luigi Luigi Di Maio sì prima di concludere volevo capire se ci sono domande dai giornalisti non mi pare dunque per la conclusione qui io vi dico semplicemente quali saranno le armi per chiarirvelo con cui cercheremo di fermare questo scempio ambientale giuridico erariale e politico ce li ha tutti dentro ed è una delle tante rappresentazioni come dicevo nel mio intervento prima di come ragiona la politica con i nostri soldi e dei danni che fa poi per fare favore ad amici loro perché probabilmente avrebbe fatto prima Renzi a fargli un bonifico da Palazzo Chigi a questi qua piuttosto che creare tutti i danni al centro storico i danni ambientali i problemi economici la concorrenza le procedure di inflazione allora qui abbiamo una diffida che va ai ministeri competenti e agli enti competenti in cui li avvisiamo se voi continuate ci vediamo in tribunale e cominciamo una guerra in tribunale questa è la Corte dei Conti in cui gli segnaliamo il danno erariale e se ci sarà un danno erariale chiederemo che lo paghi il PD perché di questo stiamo parlando e Matteo Renzi e la terza cosa questa è l'interrogazione di Diego De Lorenzis che pone il problema politico a cui chiameremo a rispondere il ministro delle infrastrutture e dei trasporti queste sono armi che si spaziano appunto dalle prerogative parlamentari alle prerogative regionali ai tavoli alle sedi dei tribunali perché ho imparato in questi tre anni ormai di legislatura che le interrogazioni le proposte di legge gli entrano da una parte e gli escono dall'altra il rumore delle manette ogni tanto lo sentono e quindi se ce ne sarà bisogno porteremo i responsabili mi dispiace anche per quella parte amministrativa che sta avallando queste cose e soprattutto la parte politica li porteremo davanti alle sedi competenti e gli chiederemo fino all'ultimo soldo dello sperpero che stanno facendo io concludo qui ricordando a tutti che di aeroporti di Firenze di casi come aeroporti di Firenze ce ne sono in tutta Italia questo lo ripeto non è un evento solo locale questo è un evento nazionale ci siamo qui perché sappiamo che è un metodo e abbiamo davanti delle grandi sfide nelle grandi città e nelle medie città italiane il comune di Roma sperpera un miliardo di euro all'anno e l'abbiamo accertato noi con la commissione di revisione della spesa di Daniele Frongia quel miliardo di euro non è che sta andando in quella direzione perché ci sono degli incompetenti sta andando a finanziare le autoblue dei consiglieri comunali privilegi dei dirigenti e dei politici comunali gli appalti senza gara e gli sperperi verso cooperative onlus e associazioni di cui non ci sarebbe bisogno che cosa dobbiamo prefigurare nella prossima campagna elettorale ai cittadini romani scegliere la forza politica che ha la libertà di tagliare quel miliardo di sprechi e metterlo in assilinido trasporti e pulizia urbana la prossima campagna elettorale dei comunali non sarà tra il programma più bello e il programma meno bello ma tra chi avrà la credibilità di tagliare gli sprechi dei comuni per sanare i bilanci e allo stesso tempo mettere mano ai servizi essenziali e la domanda è qual è la forza politica che non ha mai avuto niente a che vedere con questi privilegi negli ultimi vent'anni di questi comuni che non se ne è nutrita penso che la risposta la conosciamo tutti e da qui io lancio un grande abbraccio e applauso a Filippo Nogarin che sta contrastando proprio questo sistema a Livorno in questi giorni ed è sotto attacco di sindacati e partiti che in quella città hanno prodotto un buco di bilancio solo alla municipalizzata di 42 milioni di euro ma non manifestavano e non facevano scioperi mentre quella società continuava a maturare buchi di bilancio ma adesso che Nogarin sta dicendo saniamo la società senza tagliare un euro ai servizi sociali o ai servizi essenziali dei cittadini protestano e mettono l'immondizia tra le strade e allora questo significa essere poco credibili e noi con le persone poco credibili le ascoltiamo ci ragioniamo ma poi decidiamo perché abbiamo promesso ai cittadini livornesi di non mantenere lo status quo ma di contrastare proprio quelle mangiatoie politiche che hanno portato quella città in ginocchio dal punto di vista economico e sociale grazie grazie a tutti